CECILIA RODRIGO E IGNAZIO MOSER Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero mettere alla prova il loro amore, partecipando ad un nuovo reality. Eccoci tornati con un nuovissimo appuntamento dedicato alla coppia amata all'interno della casa del grande fratello Vipo 2. Stiamo parlando di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Come tutti sapete la relazione sentimentale tra questi due Vip è più solida, che mai, visto che sta continuando anche lontano dai riflettori, a tal proposito vi anticipiamo che la modella argentina e il trentino potrebbero partecipare ad un nuovo format televisivo insieme. La sorella di Belen e l'ex ciclista trentino sono sempre più innamorati. Se non avete avuto modo di vedere il programma Leine Show domenica 17 dicembre, vi ricordiamo che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati intervistati. A questo proposito la sorella di Belen e l'ex ciclista hanno fatto delle confessioni hot, che non sono piaciute ai telespettatori. Sempre nel servizio del talk show condotto da Ilari Blasi e Teo Mannucari, l'argentina e il trentino hanno dimostrato di essere molto innamorati. Inoltre vi riveliamo che il 16 dicembre Cecilia e Ignazio hanno partecipato insieme ad un evento tenutasi nella discoteca Donoma di Civitanova, e nel corso della serata hanno ribadito, che il loro amore è forte, la sorella di Belen ha ribadito, per l'ennesima volta, che il suo ex fidanzato Francesco Monte rappresenta un capitolo chiuso della sua vita. Cecilia e Ignazio nel cast di Temptation Island Per chi non lo sapesse, alcuni mesi fa, Maria De Filippi ha annunciato, nel corso di un'intervista, che nell'estate 2018, su Canale 5, sarebbe andata in onda alla prima edizione del programma Temptation Island con personaggi famosi, Per il momento non si sa nulla, ma se questa indiscrezione dovesse essere confermata molto probabilmente, il futuro reality show potrebbe essere condotto da Simone Aventura. Come vi abbiamo anticipato nella parte iniziale di questo articolo, secondo alcune voci circolate sul web nelle ultime ore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero tornare in tv, precisamente a Temptation Island vi permettere alla prova il loro amore. È risaputo come in questo programma tutto può, essere messo in discussione in quanto è difficile resistere alle tentazioni, sicuramente la modella argentina e il trentino sarebbero la coppia ideale per il nuovo reality VIP, dato che la loro presenza nel cast farebbe senza dubbio registrare un boom di ascolti. Per sapere altre curiosità sugli ex concorrenti del GFBQ2, vi basterà cliccare sul pulsante segui, posto nella parte alta di questo articolo. Grazie a tutti.